Buonasera, sono Maurizio D'Agostino, andato a Roma a 70 kg, sembra una presentazione, un incontro in box. No, no, sono felice di questa occasione, inaspettata devo dire, e questa è una cosa molto bella perché esistono anche i premi che uno non si aspetta. E quindi vuol dire che sono premi sani, non ci sono stati consigli per gli acquisti, quindi evidentemente. E quindi questa è la cosa che più mi fa piacere, di tutto. Poi vabbè, c'è la nostra professione, adesso stiamo preparando per il teatro Miseria e Nobiltà, finita una tournée, la cena dei cretini, eccetera, eccetera. E poi, come dice Nanni Moretti, diceva, giro, vedo gente e faccio cose perché poi noi questo dobbiamo fare. Però molto soddisfatto, devo dire, assolutamente.